È ufficiale, per lei sarà una seconda corsa per la poltrona di Sindaco? Sì, una corsa molto diversa da quella di cinque anni fa, comunque una corsa con tanto impegno, tanta voglia di vincere e tanti argomenti per poter vincere e con il supporto convinto dei partiti diciamo in una condizione politica abbastanza diversa rispetto a quella di cinque anni fa ma anche diverse sono le condizioni della città rispetto ad allora, diverso è l'avversario quindi a quanto pare sembra essere il dottor Ralli, mi fa piacere, lo conosco, lo stimo, lo rispetto e quindi se sarà lui sarà una campagna elettorale interessante ma ritengo sicuramente corretta. Una candidatura quindi sostenuta da tutti i partiti del centro-destra? Sì, assolutamente. E anche da qualche lista civica? Eh, la domanda è scontata e la risposta altrettanto, la lista civica del Sindaco non può non esserci e sta già lavorando. Se ce ne saranno altre o se si convergerà tutti su un'unica lista civica che rappresenta tutte le sensibilità civiche della città, questo non è ancora presto per dirlo. Io lavoro per questo obiettivo perché oggettivamente un'unica lista civica dà più forza anche al Sindaco stesso. Forse non raccoglie tanti voti quanto è nelle liste civiche ognuna delle quali pesca in un bacino di voti diverso, però a livello di immagine e di proposizione del messaggio civico è certamente più forte una lista unica. L'ufficialità è arrivata dopo un bel po' di tempo. Ecco, intanto lei se lo aspettava che ci pensassero così tanto questi partiti di maggioranza. La Lega per primo, lo sappiamo tutti, insomma, che era quello che doveva sciogliere un pochino di più il nodo. Sì, in realtà la decisione dei partiti l'avevano già presa nel giugno. Prima però che venissero rese note i risultati dell'indagine sul fare cosiddetto Coingas. Questo ha oggettivamente rallentato un po' l'entusiasmo di molti. C'è stato da parlarne, da capire che cosa poteva avvenire da qui alle elezioni e naturalmente io sono tranquillissimo e come ho detto più volte ho massima fiducia nella magistratura e c'era da parte della Lega anche qualche recriminazione circa la loro visibilità e comunque i rapporti interni alla maggioranza, chiarito tutto nella maniera più facile parlando direttamente con i consiglieri. Ieri sera è venuto, si è preso un caffè in amicizia. E allora si corre di nuovo per questa città cercando di realizzare quello che in cinque anni non si è potuto realizzare. Questo l'ho detto già dai tempi dell'ingegner Luccherini. Per un sindaco in un panorama legislativo e amministrativo come quello attuale ma che è molto simile per certi versi a quello di allora, cinque anni non bastano. Si possono fare tante cose, tante cose abbiamo fatto ma ce ne sono altrettante almeno da fare, alcune da completare. Una per tutte i lavori pubblici che hanno subito una battuta d'arresto legata al rallentamento del finanziamento delle periferie. Questa non solo ma anche altre, quindi il completamento di un lavoro. Ecco io se dovessi lasciare oggi direi ho fatto un buon lavoro ma non l'ho fatto tutto. Datemi la possibilità di fare anche l'altra parte. Ecco l'ha già detto lei, insomma il tema comunque dell'inchiesta Coingas farà parte di questa campagna elettorale perché specialmente il suo avversario ha detto tolga dal campo questo argomento. Ma io spero di no perché le persone si giudicano non per quello che hanno detto o per i sospetti che si possono o meno addensare sulla testa di ciascuno di noi ma per quello che hanno fatto. Quindi io mi auguro che la campagna elettorale sia correttamente incentrata sui temi della città e non sui temi delle etrologie. Ecco poi c'è anche un altro avversario che si chiama Daniele Farsetti, l'avrà visto, ma insomma che si è presentato per primo. Daniele lo conosco dai tempi della seconda legislatura Fanfani perché era tra l'altro seduto accanto a me in Consiglio Comunale in quota 5 stelle, era allora un ottimo oppositore. Non so come si configurerà come candidato sindaco. Gli faccio i migliori auguri, è una persona per bene, è una persona preparata, è una persona che studia però penso che non abbia chance. Ha detto però con il centrodestra mai. Eh beh, se no non voterebbe come vota e non sarebbe stato... Allora eravamo insieme perché avevamo un comune avversario che era il Partito Democratico. Oggi lui come avversario ha il Partito Democratico ma anche Alessandro Chinelli.